Ultima scoperta sensazionale di questo gattino radioattivo. Probabilmente il colore fluminescente è dato dal radium che è lo stesso che colorava le lancette degli orologi una volta. Vedete che lo avviciniamo bene al sensore. Le radiazioni non sono elevatissime però qui abbiamo 0,10, 0,20 micro sievert ora a Milano. Arriva anche a 0,50 in certi punti. Incredibile no? Le regalerei ai nuclearisti. Grazie. 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 Grazie.